Ciao a tutti, allora in questo video voglio parlare del sospetto del tradimento. Noi come esseri umani temiamo, molte persone temono di essere tradite e quindi iniziano a covare il sospetto. Il sospetto intanto cosa significa? Dobbiamo tenere presente questo, spesso chi ha il sospetto ha anche il difetto, quindi se conosci una persona che sospetta che tu possa tradire, tieni presente che è probabile che questa persona da parte sua possa aver messo in atto dei tradimenti nei tuoi confronti, perché tieni presente questo dato di fatto, chi ha il sospetto ha il difetto. Questo è il primo punto da tenere in considerazione, ma non è detto che chi ha il sospetto tradisca per forza. Dobbiamo tenere presente questo, se tu hai il sospetto che il tuo partner ti tradisca, che fare? A quel punto lì hai due possibilità. Intanto da cosa nasce questo sospetto? Beh, il sospetto nasce da comportamenti anomali che il tuo partner può mettere in atto. Questi comportamenti anomali sono ad esempio dei cambiamenti di abitudine. Normalmente i sospetti nascono quando si vede che il proprio partner cambia abitudini, cambia modo di fare. si prende, diciamo, più cura di se stesso. Quindi, e sono i cambiamenti, no? I cambiamenti perché ovviamente un uomo, ad esempio, quando ha la nuova amante rispetto alla vecchia moglie o alla vecchia compagna, ci tiene di più a fare una buona impressione, impressionarla. Per cui prenderà più cura del suo corpo. Farà delle cose che non ha mai fatto. Questo ti può far nascere un sospetto. Evidente che se tu hai un sospetto, poi hai due possibilità. O vai all'accertamento, o rimuovi il sospetto, trovi una giustificazione al sospetto che hai. Le due possibilità sono sempre queste. Ora, che cosa conviene fare? Qual è la scelta giusta da fare quando si ha un sospetto? Beh, tieni presente questo, che se vai all'accertamento, devi tenere conto che poi qualche decisione devi prenderla. Altrimenti finirai per calpestare la tua dignità. Qua, molto spesso, le persone si riferiscono, si rivolgono a degli amici. Però, tieni presente che esistono due tipologie di amici. Se ti rivolge, Jesse, a una persona istituzionale, tipo, non so, sei sposata, ti rivolge a tua madre, ti diceva, tua madre ti dirà sicuramente di non accertare. Ti dirà, e vabbè, ma cosa vai a cercare? Oramai hai due figli, questo matrimonio deve andare avanti. È probabile che ti risponda così. Se ti rivolge a una persona trasgressiva, ti dice, ah sì, hai il sospetto che ti risca, ma fagli le corna anche tu, riempilo di corna. Fagli più corna che in una cesta di lumache. Questo è quello che normalmente andrebbe a fare, andrebbe a dire, diciamo così, la persona trasgressiva. Ora, quindi tu devi tenere presente che devi imparare a ragionare con la tua testa. Però devi avere già un piano d'azione qualora gli accertamenti portassero alla conclamazione del tradimento. Perché altrimenti rischi di incrementare il, diciamo, accettando rischi di incrementare il fatto che lui o lei ti continuerà a tradire sempre di più. Perché nel momento in cui tu accetti una volta, prendi atto del fatto che il tradimento non diventa più una trasgressione, ma diventa quasi una norma all'interno della copia. Per cui devi farti un programma prima. Bene, per questo video è tutto. Mi raccomando, lasci i tuoi commenti qua sotto, iscriviti al canale e metti un like. Ciao!